il l'amore abbastanza improbabile che il milan si è lanciato di michelangeli il suo diagonale che termina di poco a lato per il lucerna ovviamente con di michelangeli e poi c'è il gol trovato dallo stesso numero 8 del lucerna che alza una palla praticamente sui piedi di palazzoli va alla conclusione la palla ancora lì e poi palazzoli trova il pareggio il perugia viene però anticipato palla adesso in diagonale per lang la sua conclusione termina fuori 14 vincenzini va a servire maccherani attenzione maccherani entra in aria maccherani si aggiusta il pallone maccherani ha segnato il perugia con maccherani a due minuti dal termine della gara rossa e termina qui la gara il perugia vince 2 a 1 contro il lucerna arriva a seconda nel girone perché il milan ha battuto 3 a 0 la pro sesto ciao 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 ciao